l'essì l'estetica di benedetto croce dove dice che tutti gli italiani fino a 18 anni possono diventare poeti dopo i 18 chi continua a scrivere poesie o è un poeta vero poi un cretino io poi tavero non lo ero cretino nemmeno e ho scelto allora la via di mezzo cantante queste sono parole di fabrizio de andrè in cui parleremo questa sera parleremo della sua canzone amico fragile in realtà davvero una canzone eccellente e fragile al tempo stesso perché come nessun'altra canzone di fabrizio di andrè parla soprattutto del suo autore lui pochissime occasioni è stato così trasparente è appunto così fragile e in pochissime altre occasioni ha parlato in prima persona di se stesso queste parole verrebbe da dire sante parole ma è un errore è un errore perché a mio parere tutto quello che è avvenuto riguardo fabrizio di andrè dopo la sua morte spesso è stato un po sfocato non giusto e mi riferisco soprattutto a questa opera di beatificazione che è partita nei suoi confronti tutto giusto tutto perfetto attenzione la sua opera artistica è stata meravigliosa e inarrivabile le sue parole ancora oggi pesano forse più di molte altre in tempi come questi sentiamo la mancanza non soltanto dell'artista ma anche dell'intellettuale di qualcuno che sia fuori dal coro che si permetta di dire cose che oggi forse nessuno dice più però sarebbe sbagliato sarebbe sbagliato inquadrarlo in una vita perfetta la sua non lo è stato come non lo è la vita di nessuno per fortuna una dica una vita anche carica di eccessi di auto lesionismo in qualche modo lui ha ammesso più volte dire che per molti anni è stato attaccato alla bottiglia che l'alcol è stata la sua droga e questo non ce la deve rendere né migliore né peggiore ma ce la deve rendere più vicino e quindi questo serve anche nelle analisi delle sue parole perché esattamente come abbiamo fatto la settimana scorsa quando abbiamo parlato di johnny cash l'uomo l'uomo in nero che stava sempre dalla parte dei perdenti sicuramente di andrea è sempre stato dalla parte dei perdenti degli ultimi ma per farlo non bisogna soltanto essere degli artisti bisogna averli conosciuti e bisogna ed è il percorso che ha portato di andrea a conoscerle e a cantarli raccontarli così bene è stato un processo se vogliamo ancora più difficile ed è questo che in questa opera che ho definito di beatificazione spesso viene tralasciato c'è il fatto che di andrea arrivasse da un mondo completamente diverso da un mondo della borghesia di una borghesia peraltro illuminata che lavorava e aveva posizioni estremamente rispettabili non certo la borghesia che verrà presa di mira soprattutto nella canzone di cui parleremo stasera ma di andrea si stacca subito dalle sue origini forse perché perché li rifiuti un processo classico della letteratura della vita di moltissimi altri artisti intellettuali e quindi comincia a frequentare quella genova dei vicoli sta con i diserdati conosce i drogati conosce le prostitute e va in giro con con un compagno d'avventure incredibile se ci pensate che è paolo villaggio paolo villaggio da sempre un suo amico partono nella notte finiscono girano girovagano per la città ma vanno anche nei colli astigiani in realtà lì di andrea è cresciuto per parte della sua vita la sua famiglia per parte è stata lì genitori il padre è nato a torino vanno girano ne combinano in tutti i colori bevono si divertono leggono i poeti di andrea dice le parolacce e villaggio lo riprende dice tu lo fai solo perché vuoi mantenere un atteggiamento contro ma l'atteggiamento contro che fabrizio di andrea sta preparando in questo momento sarà una cifra stilistica enormemente importante della sua carriera e con villaggio anche iniziano a suonare suonano nelle navi da crociera intrattengono e secondo villaggio stesso proprio in quelle navi di crociera per un certo periodo suona addirittura con un consiglio berlusconi ecco tutta questa questa come dire questa adolescenza questo passaggio alla vita adulta fatto di eccessi e di frequentazione dei bassi fondi non soltanto della città ma dalla vita stessa e quello che rende di andrea più umano e non un beato ma anzi uno di noi anche se molto spesso confrontarsi con la sua grandezza è estremamente difficile come abbiamo detto lui viene viene dalla borghesia avendo una borghesia estremamente solida e il fatto che lui frequenti sia la borghesia che sei perdenti certe volte lo mette in difficoltà il fatto che comunque continui a stare in quell'ambiente potrebbe essere simile a quello che pasolini una volta definì lo scandalo del contraddirmo ma proprio chi conosce tutti i due i mondi il mondo di sopra il mondo di sotto non nell'accezione a me drammatica abbiamo conosciuto in questi anni ma quello proprio del mondo di sopra di chi è ricco di quello sotto di chi non può ammire a quello status e ciò che renderà le sue canzoni ancora più vive incominciamo a inquadrarle a queste canzoni allora innanzitutto amico fragile esce da un disco che viene composto volume 8 nel 1974 e il disco è un disco particolare perché viene in un momento in cui de andrea e già de andrea ha scritto canzoni straordinarie e considerato a ragione uno dei nostri migliori interpreti ha pagato un evidente tributo ad alcuni suoi nomi tutelari soprattutto in campo artistico ai francesi a brass sense e a leonore cohen di cui spesso non ricalca ma assomiglia nel timbro vocale peraltro eccellente de andrea ma soprattutto negli arpeggi di chitarra che sostengono le sue canzoni ecco in questo momento però de andrea compone questo disco interamente in sardegna che è un luogo fondamentale per la sua vita ma anche per la creazione artistica e soprattutto gli amico fragili di cui parleremo tra poco e di lì e come sempre di andrea è stato un musicista che ha saputo sempre avvalersi e abbeverarsi alla fonte dei suoi collaboratori migliori e in questo momento ne cerca uno d'eccezione cioè vuole che questo disco sia composto insieme a un altro grande della nostra canzone cioè a francesco de gregorio e questa è la dichiarazione che rilascerà in intervista de gregorio stesso e che racconta bene come è stato il processo creativo di di questo disco e questo è de gregorio a parlare e dice de andrea mi aveva proposto di lavorare insieme dopo avermi conosciuto in un locale di roma il folk studio che peraltro è il locale dove tutti i cantautori dell'epoca a roma si formavano passammo quasi un mese da soli nella sua bellissima casa in gallura davanti a una spiaggia meravigliosa dove peraltro credo non mettemmo mai piede in quel periodo eravamo tutti e due a tratti scusate avevamo tutti e due delle storie sentimentali assai burrascose ed era più o meno inverno fabrizio beveva e fumava tantissimo e io gli stavo dietro con un certo successo giocavamo a scacchi a poker in due ogni tanto prendevo il suo motorino e me ne andava in giro per chilometri al mio ritorno spesso lo trovavo appena alzato che girava per caso con la sigaretta e il bicchiere e la chitarra in mano e aveva buttato giù degli appunti degli accordi era uno strano modo di lavorare il nostro non ci siamo mai messi seduti a dire adesso scriviamo questa canzone semplicemente integravamo correggevamo l'uno gli appunti dell'altro certe volte senza nemmeno parlarne senza nemmeno incontrarci magari perché lui dormiva di giorno e lavorava di notte e io viceversa le musiche peraltro ci venivano abbastanza facilmente ecco quindi pensate a questi due grandi interpreti della della miglior musica italiana in questo angolo meraviglioso del mondo che è la gallura di cui parleremo tra poco che cominciano a scrivere cominciano a scrivere e immaginare questo disco però sono come due animali che hanno dei bioritmi diversi pensate alle difficoltà anche per chi viveva insieme a di andrea lui di giorno dormiva e non poteva essere disturbato e di notte scriveva componeva con l'eterno bicchiere di whisky e la sigaretta ora è vero che l'arte non ha ritmi ma è difficile perché gli sta intorno riuscire a coordinarsi e stare insieme a un genio ma soprattutto un genio che a questi tempi quindi fanno fatica a collaborare non è la classica collaborazione di studio o tanto meno di due musicisti che si mettono insieme e creano gli accordi la storia della musica è fatta di questi grandi momenti qualcuno comincia con un arpeggio uno aggiunge una parola un tocco di pianoforte e pian piano in questo mistero che è la composizione artistica le canzoni vengono fuori qui non è così piccoli appunti qualcuno dice qualcosa e qualcuno dice un altro però il disco va avanti ma la canzone di cui parleremo tra poco amico fragile in realtà non ha il tocco di di gregori ma sarà semplicemente tutta una creazione di fabrizio di andrea ecco abbiamo detto la sardegna la sardegna è fondamentale è fondamentale per la vita per la storia di di andrea ma anche fondamentale per tutto ciò che sarà questo disco ma soprattutto amico fragile lo sarà anche per molto di ciò che arriverà dopo ma in questo momento diventa cruciale di andrea fin dall'inizio ha un rapporto con questa terra molto forte già nella fine degli anni sessanta aveva preso casa a portobello portobello e nella costa nord della sardegna grosso modo la unità fra castel sardo e santa teresa di galluna è un posto bellissimo che viene come tanti luoghi della costa nord della sardegna presidiata dai ricchi diciamolo pure dalla da chi in quell'epoca quasi si stupisce a immaginare che in italia ci siano dei posti così belli e quindi come spesso arriva per quella che in questo periodo viene definita la razza padrona li presidia i tal propri ancora oggi portobello se voi ci andate in una parte è consentito l'accesso e avete potete arrivare a una parte della spiaggia ma il vero nucleo di portobello è privato c'è una sbarra se non avete una casa se siete residenti non potete entrare ecco questo già ricordare l'ho fatto una sbarra una selezione solo chi entra e chi entra i ricchi ecco questo luogo fissiamo e ci torneremo dopo perché il luogo fondamentale per la creazione là dove nasce la canzone di cui parleremo stasera è micofragile però di andrea rimane affascinato da questa terra che trova che sia una ragione una una parte paralisiaca e quindi viene attratto quello che viene definito definirà lui stesso ma che il mal dei sardi cioè ci deve tornare in qualche misura e quindi prima o poi decide che è ora di abbandonare la sua genova genova che è stata teatro di tantissime le sue canzoni e ispirazioni nel 1976 con la compagna dell'epoca d'orighezzi parte lascia genova e va in sermenio e lì compra 151 ettari di terra in un luogo apparentemente lontano e appartato da tutto che è formato da tre da tre appezzamenti di cui uno quasi 700 metri ai piedi del monte l'invara e altri invece sono sono più a valle in realtà nelle campagne di tempio pausania una di questi l'agnata è il luogo che diventerà poi il luogo d'elezione di fabrizio di andrea dove andrà a vivere con dori dove prenderà uno stazzo che è la tipica casa sarda coloniale in qualche modo lo mette a posto la mette a posto e lì comincia davvero un processo di agricoltura di pastorizia decide di mettere le proprie mani in quella terra per chi c'è stato è un luogo incredibile perché estremamente distante anche solo dalla statale che ci porta tu vai avanti con la macchina vai 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 a un certo punto pensi di esserti perso che è una cosa che succede molto spesso in sardegna e poi improvvisamente si apre questa tenuta bellissima ecco lui lui sta lì e risiede lì e parla di queste sono parole di fabrizio di andrea che definisce definisce questo luogo l'agnata è un luogo dove ho speso tutti i soldi che sono riuscito a risparmiare una terra che lavoro anche con le mie mani e un giorno lascerò ai miei figli perché non avranno molto dai diritti d'autore delle canzoni del padre anche se qui la terra non rende costa tanta fatica ed è difficile far crescere l'erba devi concimare in continuazione per correggerne l'acidità dal punto di vista economico è proprio un fallimento ma ci guadagni tanto in salute e serenità questo luogo è una magia dà tanta gioia per l'anima anche quando torni a casa distrutto dalla stanchezza ti appaga e non lascia spazio alle inquietudini vivere questa dimensione è il modo più semplice ma anche il più profondo di vivere questa terra quindi c'è un legame fortissimo l'agnata nel 1994 diventerà un art di turismo dove peraltro per molti anni e saltualmente ancora oggi vengono vengono messi in piedi dei concerti gratuiti in cui gli artisti vengono invitati e celebra De André il sodalizio di De André con questa terra è fortissimo comincia a ispirare anche le sue canzoni e ispira questo disco volume 8 appunto che viene composto interamente in queste campagne ma il 27 agosto del 1979 questa terra volterà le spalle in qualche modo anche De André perché esattamente in questo luogo nell'agnata che lui e Dorighezzi verranno rapiti verranno rapiti e custoditi all'interno dei luoghi più inaccessibili della Sardegna per quattro mesi verranno rilasciati a pochi giorni di istanza intorno al Natale dell'anno stesso De André racconterà queste sue esperienze parte e finirà poi nelle canzoni dell'album Fabrizio De André quello con l'indiano in copertina che viene abitualmente descritto come l'indiano ecco lui prenderanno lui e Dorighezzi prenderanno una posizione molto netta rispetto a ciò che è accaduto cioè non si costituiranno nemmeno parte civile lo faranno soltanto anzi diciamo meglio perdoneranno i propri carcerieri non i mandanti perché i mandanti appartenevano non a quella pastorizia sarda di cui loro comprendono le difficoltà e le condizioni e per giunta poi chiederanno a processo determinato chiederanno la grazia per uno di loro che è stato condenato a 25 anni ed era un pastore sardo e loro dicono noi comprendiamo le situazioni non comprendiamo i mandanti nonostante ciò che ci è venuto sia quanto di più triste e vile tra quanto possa essere perpetrato a un uomo in termini di reali ecco però abbiamo detto la Sardegna quindi torniamo a quella Sardegna in cui nasce la canzone di cui parleremo stasera abbiamo detto Portobello quindi torniamo a dirlo un luogo bellissimo ma presidiato fermo dove non si può entrare l'accesso in quegli anni è limitato e noi ancora adesso ripetiamo un luogo di ricchezza un luogo di ricchezza presidiato da quella borghesia che De André mal sopporta nonostante sappia che in qualche misura è il luogo da cui lui deriva e allora una sera succede che cosa succede che lui viene invitato va lì ricordiamo la casa all'epoca nostra ancora con Dorighezzi e con la sua prima moglie e questa è la descrizione di De André di quella serata la serata che è la miccia che dà il là a questa canzone meravigliosa di cui parleremo fra poco questo è De André a parlare stavo ancora con Lapuni la mia prima moglie e una sera che eravamo a Portobello di Gallura dove avevamo una casa fumo invitati in uno di questi ghetti per ricchi della costa nord come al solito mi chiesero di prendere la chitarra e di cantare ma io risposi perché invece non parliamo era il periodo in cui Paolo VI aveva tirato fuori la faccenda degli esorcismi aveva detto che il diavolo esiste sul serio insomma a me questa cosa era rimasta nel gozzo e così ho detto perché non parliamo di quello che sta succedendo in Italia ma che avevano deciso che dovesse suonare allora mi sono rotto le palle ho preso una sbronza terrificante ho insultato tutti e sono tornato a casa quindi mi sono chiuso nella rimessa e in una notte da ubriaco completamente ubriaco ho scritto amico fragile Lapuni mi ha stanato alle 8 del mattino non mi trovava né a letto né da nessuna parte era ancora nel magazzino che finivo di scrivere quindi ci sono parte di quello che abbiamo detto prima cioè c'è il De André che si trova in faccia ciò che ha rifiutato appunto la ricchezza la borghesia ciò che 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 la fin dall'inizio convinto di dover scegliere un'altra strada una strada contraria differente c'è la bellezza della terra una terra che lui dice in uno di quei ghetti per ricchi una terra che lui ha scelto e sceglierà dopo di prendere come sua residenza in quale ci mette la mano che lavora e che diventa proprio il suo posto nel mondo tagliata a fettine per una serie di ricchi che semplicemente sono annoiati per quella per la borghesia stolta che invece di preoccuparsi di ciò che è parlare di ciò che sta succedendo in quegli anni in Italia sono i primi primi giorni delle brigate rosse appunto come cita De André Papa Paolo VI parla dell'esistenza del diavolo insomma sono tematiche se vogliamo bisogna inquadrare tutto nell'ottica degli anni 70 gli anni 70 sono anni che imponevano anche gli artisti di discutere e di prendere posizioni su qualsiasi cosa ecco lui dice perché non facciamo questo io non sono un giullare non sono solo qualcuno che a bacchetta viene comandato il quale viene detto ok suoni intrattienici io non sono il vostro giullare e allora come reagisce reagisce appunto e questa se vogliamo è quello che dicevo prima ciò che dobbiamo ricordare di André reagisce in modo umano con debolezza beve beve si ubriache questo il suo modo probabilmente succede un casino probabilmente offende tutti là dentro se ne torna in quella che lui definisce una delle feritoie della notte e adesso lo vedremo nel testo c'è in un rifugio nel suo rifugio la e compone compone questa canzone meravigliosa allora intanto amico fragile è una canzone che come abbiamo detto prima ha dal punto di di vista musicale un riferimento molto forte a leonard cohen che è sempre stato ha sempre accompagnato di andrea nelle sue composizioni attenzione anche dal punto di vista musicale bisogna ricordare che di andrea non è battisti non è un inventore musicale nonostante abbia scritto melodie meravigliose canzoni bellissimi di andrea ha sempre avuto dei punti di riferimento molto forti e al quale non c'è nulla di male poteva essere accostato ma nelle parole nella pulizia e nella feroci di alcune delle sue parole sta soprattutto la grandezza ecco qui dicevamo ci sono i classici pochi accordi alla leonard cohen in realtà sono quattro accordi in tutto in generale che cambiano secondo della frase o del ritornello e questa canzone molto simile dal punto di vista musicale a un'altra canzone di leonard cohen che si chiama avalanche però gli arpeggi sono meravigliosi e hanno questa siccome sono molto ripetuti creano questa situazione quasi sospesa in cui c'è una tensione di fondo e questo fa sì che le parole siano ancora più efficaci e allora andiamo a prendere queste parole proviamo a fare ciò che si fa con i grandi poeti cioè analizzarle una per una ma soprattutto leggendoli inquadriamo quella situazione che è esemplificativa di un certo tipo d'italia di un certo tipo sia di borghesia ma di ciò che l'intellettuale faceva in quei tempi contestava poteva farlo pubblicamente ma di andrea lo fa privatamente per la prima volta scrivendo una canzone che parla di se stesso e allora la canzone dice evaporato in una nuvola rossa attenzione che cos'è questa nuvola rossa molti dei testi di andrea sono criptici ma questo non lo è affatto ed è lui stesso a dirlo certe cose non si capiscono perché sono mie personali evaporati in una nuvola rossa e che a quei tempi io mi drogavo la droga dei miei tempi era l'alcol ho bevuto come una spugna fino a 45 anni e lui lo ammette e ricordiamo sempre dalla parte dei deboli di chi sa di avere delle debolezze solo chi ci è passato può conoscere e cantare in un modo così eccellente evaporato in una nuvola rossa in una delle molte feritoie della notte e questo l'abbiamo visto prima queste feritoie della notte per lui sono lo stanzino il capanno dove si rinchiude e compone l'arte come come medicina per i dolori per i dolori dell'anima con un bisogno di attenzione ed amore che forse lui sanificava con l'alcol troppo se mi vuoi bene piangi per essere corrisposti valeva la pena divertirvi le serate estive ecco questa calda estate del 1974 a portobello se lui è successo da poco poche ore fa e lui ce l'ha ancora dentro e quindi lo esprime valeva la pena divertirvi sono questo c'è tutta la mia arte serve solo a questo a divertire un gruppo di annoiati borghesi con un semplicissimo mi ricordo la narrazione questo volete per osservarvi affittare un chilo d'erba ai contadini in pensione e alle loro donne ecco questo chilo d'erba si è detto spesso che si rifiesce alla droga la marijuana in ogni caso la droga girava molto spesso in questi ambienti ricchi e annoiati e regalare a pieni mani oceani ed altre altre onde ai marinai in servizio fino a scoprire ad uno ad uno i vostri nascondigli e quali sono i nascondigli di questa gente l'ipocrisia l'ipocrisia di un mondo annoiato infastidito lontano da una realtà che in quegli anni in italia diventa sempre più difficile senza rimpiangere la mia credulità perché già dalla prima trincea ero più curioso di voi ero molto più curioso di voi e qui André vuole marcare il distacco il distacco da questo ambiente nel quale suo malgrado è stato trascinato vuole distinguersi dice io sono differente non sono come voi nonostante in qualche misura provenga da voi e poi sospeso dai vostri come sta meravigliato da luoghi comuni e più feroci che è una frase già di sé bellissima tipo come ti senti amico amico fragile se vuoi potrò occuparmi un'ora al mese di te ecco questo è il tempo no questa bellissima questa precisazione del tempo anche la bontà la cortesia l'aprirsi verso gli altri di questo mondo è a tempo come un tachimetro dei sentimenti come un'empatia che si misura al tichettare dell'orologio se vuoi potrò occuparmi un'ora al mese di te lo sa che io ho perduto due figli signora lei è una donna piuttosto distratta e questo è bellissimo una delle armi più belle è il prendere in giro cioè prendere per il culo esattamente questa gente che fa tintinnare soltanto i propri gioielli come ha definito John Lennon una volta dicendo non state ad applaudire fate solo tintinnare i vostri gioielli ecco lo sa che io ho perduto tuoi figli può essere di nuovo si è detto un accenno alla droga il fatto che moltissime di queste persone si disinteressassero dei propri figli lasciassero che questi imbalia alla noia o una ricchezza mal riposta finissero poi nelle mani e nella dipendenza della droga e ancora ucciso dalla vostra cortesia nell'ora in cui un mio sogno ballerina di seconda fila agitava per chissà quale avvenire il suo presente di segni enormi e il suo cesareo fresco ecco questo è stato interpretato molto spesso si è detto anche forse uno un'offerta di sesso per una notorietà cioè come dire l'idea di dover di doversi sempre prostituire che l'artista in qualche misura debba farlo o che forse qualcuno fra di loro semplicemente si offrisse per avere quel po' di notorietà per stare insieme al poeta al poeta maledetto che stava già un po' esagerando col whisky in quel momento e poi qui c'è una delle frasi più belle di tutta la poetica di De André pensavo è bello che dove finiscono le mie dita debba in qualche modo incominciare una chitarra ecco questo è stato interpretato in due modi o una simbiosi tra l'artista, tra l'uomo e la sua chitarra oppure il fatto che lui debba suonare a tutti i costi cioè davvero non posso liberarmi da questo strumento non posso essere qui come qualcuno che dialoga con voi ma semplice arriva il momento in cui mi si dica ok, intrattienci, facci divertire e poi seduti in mezzo ai vostri arrivederci mi sentivo meno stanco di voi ero molto meno stanco di voi potevo stuzzicare i pantaloni delle sconosciute fino a vederli sparrancarsi la bocca potevo chiedere ad uno qualunque dei miei figli di parlare ancora male ad altavoce di me potevo barattare la mia chitarra e il suo elmo con una scatola di legno che dicesse perderemo potevo chiedervi come si chiama il vostro cane il mio era un po' di tempo che si chiama libero potevo assumere un cannibale al giorno per farmi insegnare alla mia distanza dalle stelle potevo attraversare litri e litri di corallo per raggiungere un posto che si chiamasse arrivederci e attenzione dal vivo molto spesso questo posto non si chiamava arrivederci ma anarchia lui lo diceva nel testo e in questo ultimo passaggio è tutto il pensiero anarchico e libertario che ha sempre contraddistinto di Andrè e poi c'è il finale quello che abbiamo detto già abbiamo citato prima e mai che mi sia venuto in mente di essere più ubriaco di voi di essere molto più ubriaco di voi ecco forse alcuni passaggi non sono comprensibili magari sono legati semplicemente a spicchi di frase che sono stati detti in quella serata ma assumono una grandezza enorme qualcuno che si ribella del grande artista che si ribella anche a se stesso che sembra strapparsi quella pelle che ha disconosciuto fin dall'inizio e allora si distacca fa e lo fa nell'unico modo possibile con l'arte e in solitudine e questa canzone meravigliosa e incredibile in realtà De Andrè l'ha sempre cantata l'ha sempre cantata dal vivo in tutti i suoi concerti concerti che sono iniziati molto tardi pensate che De Andrè ha eseguito il suo primo live quando aveva già 35 anni il 15 marzo del 1975 alla bussola d'oro di Viareggio dopo un corteggiamento enorme da parte dei promoter perché suonasse dal vivo alla fine si convince e vince una naturale ritrosia a esibirsi dal vivo e suona per quella prima volta e esegue Amico Fragile la esegue e tra il pubblico c'è uno dei suoi amici dei suoi amici mai immaginati da Paolo Villaggio come diciamo prima al regista Marco Ferreri e lui continuerà a farla e a suonarla sempre una canzone che non smetterà mai di fare e questo diventerà un classico soprattutto di suoi concerti che poi verranno fatti nel 1979 con la PFM la PFM l'ha premiata a Forneria Marconi che l'aveva già accompagnato in qualche misura durante un altro dei suoi dischi fondamentali nella Buona Novella quando si chiamavano ancora quelli e questa è la dichiarazione riguardo a quel tour De Andrè dice l'idea di un tour con un gruppo rock sulle prime mi spaventò ma il rischio ha sempre il suo fascino forse in una vita precedente era un pirate e così una parte di me diceva di accettare in più era tormentato da interrogativi sul mio ruolo sul mio lavoro sull'assenza di nuove motivazioni e la PFM mi risolse il problema dandomi una formidabile spinta verso il futuro la tournée con loro è stata un'esperienza irripetibile perché si trattava di un gruppo affiatato con una storia importante che ha modificato il corso della musica italiana ecco un giorno hanno preso tutto questo e l'hanno messo al mio servizio ed è verissimo quei concerti strepitosi con la PFM in realtà Amico Fragile che viene dilatato a quasi dieci minuti è uno dei pezzi è il climax di quel concerto quegli arpeggi sono impreziositi dalla chitarra di Mussida e della PFM che fa degli inserti degli assoli straordinari la rende uno dei vertici assoluti della musica italiana di tutti i tempi eppure incredibile per ricordare quanto fossero duri quegli anni settanta il semplice fatto che De André non si esibisse più voce e chitarra venne interpretata da parte del pubblico come un tradimento quasi uguale a quello di De André quando abbandonò la chitarra acustica per il favore di un gruppo elettrico e a Newport si beccò l'urlo di Giuda traditore a De André succede la stessa cosa quando si esibisce a Roma al palazzetto dello sport gli gridano pezzente gli dicono venduto gli dicono vai a Sanremo e tutto questo per che cosa? semplicemente perché aveva un gruppo Rocca alle sue spalle e questo ci racconta anche di quanto dal punto di vista artistico gli anni settanta siano stati un decennio assolutamente cieco da questo punto di vista non si guardava l'arte che si stava compiendo su quel palco questo straordinario connubio tra un artista eccellente ed un gruppo rock che gli stava a pari passo e impreziosiva le sue canzoni non si guardava al lato artistico si guardava semplicemente il disimpegno ma De André suonava avanti e quei due dischi rimangono e rimangono ancora due momenti fondamentali della musica italiana ma della musica dal vivo De André non c'è più lo sappiamo le sue parole eccheggiano e il ricordo di quel De André della sua statura artistica e umana appunto pur con le sue debolezze di quest'uomo che scrive una canzone così meravigliosa in un momento di rabbia e di fragilità con quella bottiglia che per 45 anni lui stesso ha detto l'ha sempre accompagnato e un ricordo che ce lo deve rendere ancora più grande e siccome abbiamo iniziato con una frase chiudiamo con un'altra dichiarazione di De André che disse la canzone più importante che abbia mai scritto è forse Amico Fragile sicuramente quella che più mi appartiene è un pezzo della mia vita ho raccontato un artista che sa di essere utile agli altri eppure fallisce il suo compito quando la gente non si rende più conto di avere bisogno degli artisti ripetiamo quando la gente non si rende più conto di avere bisogno degli artisti questo è il fallimento e queste sono parole eccellenti sì parole da beatificare soprattutto in un momento come questo dove tutto è più difficile e dove troppo spesso ci dimentichiamo di quanto l'arte sia fondamentale a tutti noi e sia qualcosa di cui abbiamo bisogno e sicuramente qualcosa che ci rende la vita migliore e più forte e questo come non bastassero le sue canzoni è un altro dei grandi insegnamenti di Fabrizio De André grazie a tutti